No, oh, oh, oh. No, oh, oh, oh. No, oh, oh, oh. No, 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 oh, 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 oh. No, oh, oh. No, oh, oh. c'è 60 tu fai next perché qual è la tua è la tua ghiere è la prova di punto la prova di punto è la lunga non, 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 non non, 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 non Buonasera a tutti, adesso arrivano le emergenze Buonasera a tutti Buonasera a tutti